E' avvicinarci col cuore, perché i poveri si moltiplicheranno, si sono già moltiplicati, e soprattutto in situazioni, fasce sociali, che non vivevano la povertà, prima di questa tragedia in mare. E per questo ci sarà bisogno anche di un progetto serio, perché già nelle nostre aree interne siamo poveri di popolazione, e anche di strutture e di risorse. E allora chiediamo anche in questo l'intercessione dei santi, perché ci diano intelligenza, coscienza e umiltà per unire le forze in un progetto comune. Perché ogni discorso di progetto comune poi cade sempre, perché dopo un buon inizio ci sono le prime donne che si devono smarcare per conto proprio perché devono agire da soli, i solitari, non è tempo per solitari. Sarebbe un suicidio collettivo. E allora San Pio ci aiuti anche a capire questo. Ci aiuti ad assumere i criteri di valore e di giudizio del Vangelo. Ci faccia vivere in una grande umiltà e piccolezza, come ha vissuto lui. E faccia sì che anche nei momenti difficili della nostra vita, noi abbiamo presente che stiamo partecipando alla passione di Cristo. E come tale dobbiamo vivere anche quei momenti, come partecipazione alla passione, nella logica però è anticipo di risurrezione. Sia davvero così, nella vita di ognuno, nella nostra vita di singoli cristiani, ma anche nella vita delle nostre comunità ecclesiali, della Chiesa e anche della società.